Faccio i video perché avevo problemi con la scuola, verifiche, vabbè, tutto così. Vi farò vedere un video di Minecraft e spero che vi piaccia e cominciamo. Ricordate di lasciare un bel like e incominciamo. Io direi mondo normale. Sì, dai. Giochiamo in creativa e così almeno vediamo bene. Potrei essere rigenerato nel posto dove avevo fatto una casa o una roba così. Ecco, infatti, patatano. Ci sono un po' di uccelli, vabbè, poi guardate la mia gabbia per uccelli. Oh, no, no. Che l'ha fatta questa? Oh, no. Allora, vi faccio vedere una casa che abbiamo modificato di una strega. Poi, vabbè, ci fa anche notte, però fa niente. Cercherò di sopravvivere. Qui ho fatto una muraglia, diciamo, perché... C'erano le mucche delle mie pecore perché sennò perché non padevano lo spazio sui cavalli. Che vabbè, adesso non so dove sono cinti. Poi qui c'è il mio casa barra osservatorio. Che non è male. Poi, forse, nei prossimi video vi farò vedere meglio i letti. La stanza qui. Una stanza così, tanto per fare. Quello alto. Poi, qui è la stanza dove si può vedere quando c'è una bufera o piove. Vabbè, e qui c'è la stanza aperta. Come vedete... Si vede bene, vabbè, adesso vado giù a dormire. Così almeno ritorno al giorno. Perché per me è decisamente più bello il giorno che la notte. E poi non mi piacciono i creepers. Devo essere proprio così. Anche se so che è incredibile. Cioè, non è che ti facciano così. E... Cioè, almeno che non li fai esplodere tu. Oh! Uno zombie da brucia. Bella roba. Vabbè, in ogni caso... In ogni caso qui avevo ucciso la strega. Volevo prenderla sua casa. Mi ha buttato una pozione. Non so bene cosa voleva... Che intenzione aveva voluto fare. Ah, ecco qui la mia vasca. Ci dovrebbero rassere dei polpi. Ah no, sono morti. Una pecorella. Vi ha mangiare. Un guardiano si è svegliato. Ah, poi... Facciamolo arrabbiare tanto. Non può andare molto lontano. Poi vi faccio vedere bene qua. Che vabbè, in ogni casa... In ogni caso, scusate. Qui ci sono sempre due letti. Qui apro. Vedete? Viene l'acqua per la barca. Poi apro lì e lì... E esco. Adesso rifiudo. Ah, volevo dirvi che... A proposito di Clash Royale... E vabbè, l'ultimo aggiornamento... A me mi è piaciuto molto. Volevo dirvi se volevate iscrivervi al mio clan. Mi si chiama Donare. Con la faccia del pecca blu. Sono Matte Clash, un piano. Il gran cavaliere. E fa un botto di danni insieme al drago infernale che ce l'ho. Poi mi sono fatto il cilitero al 2. E... Oh... Vabbè, ho proprio in mente di liberare Steve. C'è, eh? Dai, liberiamoli. Poi se vogliono uscire per... Adesso lo rompo poi vi devo lasciare... Perché... con poca carica ricordate lasciate un bel like condividete e grazie a tutti per aver visto il mio video ciao ciao